Rising Sun Wrestling Promotion Come al solito, sponsorizzate su Facebook qualunque tipo di match Il Thunder Bastards Il match tra una ragazza e un ragazzo Il ritorno di Ashley Dunn E poi? E poi come sempre, mancate di rispetto Al più grande campione di wrestling d'Italia Campione italiano Campione Rising Sun Il vostro Campione Perciò Ascoltatemi bene Se avete voglia di mancarne ancora di rispetto Sarò io A mancare di rispetto a voi